Movie Projects Essenzialmente è tutto basato su uno stile di vita che è molto particolare e peculiare proprio di Machko Il modo in cui lavorava, usando vecchie tradizioni, è la sua filosofia di vita Le motivazioni per cui ha continuato e continua ancora ad oggi a fare la stessa cosa, nella stessa maniera Si chiusa questa seconda edizione del concorso Fiorenzo Serra che ha avuto ottimi riscontri di partecipazione Ben 60 film sono arrivati per il concorso, 37 stranieri, 23 italiani per 4 premi, 3 dedicati al grande regista documentarista Fiorenzo Serra e uno dedicato al grande intellettuale e anche esperto di cinema Antonio Simon Mossa La seconda edizione con questi presupposti promette che negli anni futuri sarà sempre più ricco sempre più importante, è già conosciuto a livello internazionale per cui ci aspettiamo per il futuro veramente grandi cose e soprattutto un premio sempre più importante e sempre più ricco Grazie Grazie Grazie